Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo appuntamento del venerdì Marvel, giornata in cui ci occupiamo di ricensire, senza e con spoiler, la puntata di The Falcon e The Winter Soldier. Nello specifico parliamo di una terza puntata molto combattuta, almeno per quanto mi riguarda. Ci sono state delle cose che ho amato e delle cose che invece proprio non mi sono piaciute. Ma al solito vi ricordo che la puntata sarà divisa in due parti, i primi 20-25 minuti senza spoiler e la seconda parte della puntata invece è spoiler free. Quindi se avete domande, curiosità inerenti, vi chiedo la cortesia di prestare fede a questa cosa. Prestateci veramente tanta attenzione, ditemi se la puntata vi è piaciuta, se non vi è piaciuta, senza comunque almeno in questa prima parte della live fare spoiler, scrivere cose in chat e quant'altro ancora. Nella seconda invece, al mio segnale, scatenate l'inverno, il soldato. Comunque, bentrovati! La prima cosa che vi chiedo è, vi è piaciuta questa terza puntata? Mi raccomando con gli spoiler, ma ditemi, ditemi. Ciao, io ci sarò nonostante gli spoiler, Cremonist Gamer, sei veramente coraggioso. Ottimo, ottimo. Vector dice sì, dai, mi è piaciuta. È un sì, dai, che però non è tanto convinto. Magari qualche cosa sulla spiegazione di certe situazioni relative a ok, poi ci addentriamo ovviamente sulla presenza di un personaggio non lo specifico che nella parte spoiler free eviterò di menzionare. Comunque, speriamo di non incappare in spoiler. Da qui in avanti io, come vi ho sempre detto, la mia politica è non farle. Sto di fatto evitando ogni speculazione, ogni anticipazione, anche sul merchandise, cosa che invece non posso dire che qualcuno ha avuto la delicatezza di fare nei miei confronti. Ma vabbè, sorvoliamo. Come dico sempre, io pubblico eventuali leak o notizie succose grosse prima del tempo solo se non rovinano il finale o comunque l'opera stessa e anzi danno addito a speculazioni da parte di noi fan. Viceversa, evito sempre di farlo. Secondo te ci spiegheranno che Challa è morto? Beh, dubito che comunque vogliono già affrontare questa questione in The Falcon e The Winter Soldier. Sia perché la serie è in cantiere da ben prima che purtroppo Chadwick Boseman ci ha prematuramente abbandonati. Quindi, come puntata però sgravata o... Per me è già meglio di WandaVision ma di gran lunga. Non sono totalmente d'accordo ma per questo dovrei fare dei paragoni e paragoni che comunque hanno degli spoiler all'interno della sceneggiatura, all'interno del campionario. Lo so che vi aspettate che recensisca subito ma a differenza proprio di WandaVision, visto che l'hai nominata, è una serie molto meno cervellotica. Non c'è tanto da perdersi in segnali, easter egg, messaggi nascosti, sottotesto, andare a scavare tra le righe. Anzi, anzi, sì che mi permetto il lusso di perdermi qualche minuto per leggere i vostri commenti. Alcuni tuoi colleghi senza fare nomi si arrabbiano quando beccano spoiler ma li fanno in continuazione, assurdo. Guarda, dipende sempre da come si parla di che cosa. Ovvio, se tutte le testate giornalistiche riportano tal dei tali, entra a far parte di questa serie, di questo film per interpretare tal personaggio, è normale che anch'io in News McQuack debba parlarvene. Viceversa, se si tratta di merchandise, se si tratta magari di una foto leakata che non aggiunge Pepe, che non porta dialogo, io evito di rovinarvi la sorpresa. Lo spoiler che mi è stato fatto riguarda il merchandise, grazie Federix, grazie di cuore per l'abbonamento con Prime, benvenuto. Lo spoiler che mi è stato fatto riguarda per l'appunto il merchandise e di conseguenza il destino di un personaggio. Per molti potrebbe essere prevedibile, per molti bastava leggere i fumetti per saperlo, però se c'è una cosa che ho imparato proprio grazie a Wandavision è che non sempre quello che succede nei fumetti in tv viene portato per filo e per segno. E visto che l'abbiamo già imparato con Civil War, l'abbiamo già imparato con la saga dell'infinito, di fatto la Marvel ama prendersi delle libere interpretazioni, ama prendersi delle libertà nei confronti della fedeltà della sceneggiatura proprio per sorprendere anche i lettori, io questa cosa avrei preferito scoprirla arrivato alla fine della corsa. Ovviamente mi sono arrabbiato, ho bloccato su Instagram la persona che me l'ha fatto. Grazie Jovelin, un anno, grazie di cuore per la fedeltà, grazie mille. Ovviamente capisco che magari nonostante le buone intenzioni tutte, infatti questa persona non è stata bannata altrove, può interagire con me su Twitch, può interagire con me su YouTube, abbonato o meno che sia, però su Instagram, l'avevo detto, è la mia politica, chi sbaglia paga, sapete più o meno come mi comporto io, soprattutto se siete utenti da tanto tempo, sapete che relazione ho con lo spoiler, con i contenuti, cerco anche di dividere la recensione in due sezioni proprio per evitare di riguastarvi il divertimento e di conseguenza sono un attimino un filo intollerante nei confronti di chi, anche armato di buone intenzioni, finisce con rovinarmi la visione di qualcosa. E per certi versi io la visione di Falcon e Winter Soldier me la sono guastata, perché potevo magari immaginare alcuni risvolti, ma era un ipotetico risvolto, un possibile risvolto e adesso invece ne ho la certezza, che una delle cose più belle di Wandavision per quanto mi riguarda è stato proprio scervellarsi per capire dove volesse andare a parare la serie, e se prendere la strada più banale, se prendere quella più prevedibile, se prendere quella più coraggiosa, quella più sperimentale, quella più fedele ai comics, e ora come ora so il destino di un determinato personaggio e mi ha dato molto fastidio, perché avrei preferito essere sorpreso o trovare conferme. Ecco, mettiamola così. Io sto facendo fatica a schivare gli spoiler di Godzilla vs Kong, le trovo ovunque anche su YouTube. Sì, ci sono anche un sacco di articoli che dicono, ora che il film è finito, qual è il futuro per il Monsterverse? Analizziamo insieme il finale, ho dovuto chiudere i social per forza di cose, perché ormai saltano fuori notizie in ogni dove, quindi... Comunque. Lithium innanzitutto ci dice il suo voto, puntata a me, secondo me, da 6 e mezzo. Io non sono per valutazioni sui singoli episodi, diciamo che quando ho visto qualche puntata, tendo, diciamo, a creare un voto generale, molto superficiale, e comunque è un voto provvisorio che può arratondarsi in base a come finisce, in base a come la storia si evolve, oppure può anche andare in difetto. Con Bandavision, a quota 4-5 puntate, avevo detto che per me era un 9 pieno, per come la serie è terminata, è diventato un 7 e mezzo. Tre puntate per Falcon e Winter Soldier non mi sono sufficienti, ho bisogno di vederne almeno una quarta, anche se so che siamo circa a metà, vorrei sbilanciarmi dopo la quarta puntata. Però posso dire che questa puntata mi ha soddisfatto molto su alcuni punti, più che altro tecnici, e non mi è piaciuta su tantissimi altri punti, più che altro narrativi. Quindi si parla di scrittura, la scrittura non mi ha fatto gridare il miracolo, ma ci arriveremo tra poco. Ma è più questi cervellamente folli, visto che deludono sempre, molto meglio se era la Falcon e le Winter Soldier. Matthew, a me, io non sono d'accordo con te, per me non lo è stata, una buonissima puntata, io amo scervellarmi, e attenzione, lo ripeto, per Bandavision siamo stati rimasti parzialmente relusi, perché noi abbiamo fatto overthinking su una serie, ma il cast, gli autori, il regista, Kevin Feige, tutti hanno galvanizzato questo hype, tutti l'hanno fomentato con delle false piste. Sono in parte responsabili di questa nostra, tra virgolette, delusione, che poi fino a un certo punto, perché io se sono deluso da una serie, non gli do un sette e mezzo. Io sono amareggiato, ma non deluso. Però riesco a capire perché tante persone abbiano amato questo episodio e perché io non l'ho apprezzato. È lo stesso motivo per cui tante persone non hanno apprezzato Bandavision, invece io sì. Ma ci arriviamo tra poco. Ti sei rovinato il gusto, che poi sia tutto il senso di vedere una serie. Esatto! Comunque B.U. ci dice, a me, dire la verità, è piaciuta molto la puntata di oggi. Come hai detto anche tu, Rob, forse un po' frenetica e veloce. L'avrei preferita leggermente più spiegativa e coerente. E su questi punti ci ritornerò molto, molto. E sì, poi ci sono quei dettagli che della Marvel, mi aspetto, facciano meglio. Più che altro è che io amo come loro a livello tecnico, a livello artistico, a livello estetico, abbiano già consolidato una forma di identità. Quindi nel momento stesso in cui tu parli di un prodotto Marvel, parli di un prodotto curato da un punto di vista registico, sonoro, visivo, colorato, di fotografia, di dialoghi, se è bene o male, che anche se puoi non aspettarti in particolar modo un capolavoro, perché comunque è fine a se stesso all'interno del range dei cinecomic rivolti a un pubblico per famiglie, puoi comunque aspettarti un qualcosina di più, qualche estro creativo, qualche guizzo. Ecco, qua ci sono state delle cose che per me non hanno funzionato davvero davvero tanto, soprattutto in relazione a come sono state costruite le prime due puntate, ma ci arriverò tra poco. Innanzitutto iniziamo con quello che si può dire nella parte non spoiler. Questa puntata farà contenti i fan dell'azione, perché è una puntata estremamente veloce, ritmata, frenetica, forse troppo. È una puntata che trascina i personaggi in una sorta di avventura globetrotting, perché comunque si passa da un paese all'altro, non vi dirò ovviamente quali. È una puntata che farà felice anche i fan dei fumetti, perché c'è un certo easter egg, una certa citazione. Oggi ho visto la chat esplodere quando si è fatto il nome di un determinato luogo, ma io ho preferito andarci coi piedi di piombo, proprio perché Bandavision, Docet, ha già insegnato qualcosa da quel punto di vista. Sono abbastanza skillato ormai per capire che una cosa che viene portata dalla Marvel, beh, ha un ruolo fino a se stesso, salvo poi che in futuro possano smentirmi. E non vedo l'ora, perché io non vedo l'ora di sbagliarmi, di dire oh, che bello, finalmente si sta facendo quello, stiamo portando quel personaggio, si sta andando in quel posto per quel motivo, ma finora sono solo strizzate d'occhi a chi i fumetti li ha già letti o a chi ha visto qualche film dell'universo Fox. Detto ciò, grandi protagonisti di questa puntata sono due personaggi, uno che non era ancora stato presentato in questa serie e un altro che invece ci viene presentato nella splendida sequenza finale del secondo episodio, che con un slow motion, con questo zoom meraviglioso in questo corridoio bianco e asettico, freddo, di questa carcere di massima sicurezza in quella di, credo che fossero, Berlino, Germania, penso proprio di sì, si entra poi a trovare il barone Zemo. Zemo, che è un personaggio carismatico, affascinante, per certi versi forse Zemo sta all'MCU come Moriartista a Sherlock, perché di fatto è quel personaggio sarcastico, ripeto, affascinante, brillante, intelligente, subdolo, cattivo, e che sta perennemente su una linea grigia, ti puoi fidare, non ti puoi fidare, gli hanno dato dei grandissimi dialoghi, esaltati peraltro dalla grandissima performance di Daniel Proul nell'edizione originale e anche dal buon doppiaggio di Francesco Pezzulli nell'edizione italiana. Zemo è grande personaggio, grande protagonista di questa puntata e nel momento stesso in cui interagisce con i nostri mette in moto un sacco di dinamiche interessanti, dinamiche molto interessanti perché porta il nostro duo a diventare un trio e di conseguenza arricchisce ulteriormente il punto di vista dei personaggi all'interno della vicenda perché Sam e Bucky hanno opinioni divergenti tanto sull'eredità dello scudo di Steve, tanto su come condurre l'operazione, tanto anche su come fidarsi o non fidarsi dello stesso Zemo e questi continui batti vecchi che sono molto da buddy movie, che sono molto da Grosso Guai Oceanatown, Arma Letale, chi più ne ha più ne metta, esaltano la bromance e di fatto esplodono letteralmente dopo che i personaggi si sono unite nella puntata precedente, una cosa che personalmente io ho apprezzato tantissimo. Fermo restando che molti di voi invece mi hanno scritto anche su direct e facebook per dirmi Rob, non pensi che stiano marcando un po' troppo questa rivalità della bromance? Non pensi che queste battute rischino di spezzare il ritmo e la tensione? Fermo restando che le battute sono relativamente poche e il dibattimento e i confronti tra i due personaggi sono invece molto più da un punto di vista di ideali, di filosofia politica, di mentalità e di conseguenza anche sull'approccio all'azione e al compimento della missione che si sono prefissati, di fatto io non l'ho percepito in questo modo, bisognerà capire nelle rimanenti tre puntate perché credo che siano in tutto sei le puntate di Falcon e Winter Soldier se ben ricordo, sostanzialmente bilanceranno meglio questa cosa e soprattutto porterà i personaggi al punto successivo perché quello che di fatto Sam e Bucky stanno avendo anche senza l'uso della psicologa in questa serie è una terapia di coppia è un continuo dibattere è un continuo confrontarsi è un continuo litigare è un continuo scontrarsi fino ad arrivare a un punto comune c'è una tensione non sessuale mi dispiace fan girl ma c'è una tensione molto forte tra i due personaggi che spero venga esplorata quanto prima perché per quanto mi riguarda ha bisogno di fare il passaggio in più il level up e da quel punto di vista Zemo potrebbe essere diciamo il fiammifero che va a accendere la miccia quello che innesca la grande esplosione che potrebbe avvenire in un momento di conflitto nelle prossime puntate inoltre viene dato maggiore spazio di nuovo a John Walker il nuovo Captain America che in questa puntata nonostante sia armato la buona intenzione sembra sempre più frustrato pesante sembra sempre più arrabbiato e stia quasi quasi cavalcando una sorta di sentiero oscuro o magari è semplicemente vittima di una cosa più grande di lui che l'ha investita perché ricordiamo come c'è stato presentato nella precedente puntata che John Walker era per quanto incomiabile per quanto bravo per quanto da record un umano un comune essere umano che si ritrova catapultato in un contesto in cui ci sono super soldati terroristi un grande stratega militare conosciuto come a sua volta come un grande terrorista che ha gettato il mondo nel caos e ha quasi spezzato gli Avengers definitivamente abbiamo Falcon che è un uomo normale ma con un equipaggiamento high tech e poi c'è Bucky che invece al serio del super soldato è un braccio che da solo rappresenta una macchina da guerra quindi da quel punto di vista avere lo scudo di membrano di Cap quando sei comunque un semplice umano potrebbe risultare quasi un handicap ecco perché diventa ancora più importante il fatto che questo episodio ci mostri ben cinque punti di vista differenti abbiamo infatti un punto di vista di un personaggio nuovo che non è stato ancora introdotto a livello pratico a livello estetico a livello di casting ma comunque aleggia nell'ombra al punto che comunque viene menzionato più e più volte poi abbiamo il punto di vista di Sam e di Bucky che abbiamo detto essere divergenti il punto di vista di Zemo forse sono anche più di cinque abbiamo il punto di vista del nuovo Captain America e il punto di vista degli Flag Smasher quindi ora come ora si tratta per la prima volta di avere tanti personaggi che nonostante ci siano stati dipinti e mostrati nella loro esecuzione nel modo in cui si comportano e si relazionano tanto al mondo della serie tv tanto agli altri personaggi possono essere sia positivi che negativi e soprattutto essere armati da un'ideologia che loro ritengono essere giusta questa è una cosa che a livello ed è un grandissimo pregio che mi sento di dare proprio ai Marvel Studios è una cosa che noi non siamo abituati a vedere neanche al cinema di solito abbiamo gli eroi i cattivi e forse quando ci gira bene quei personaggi ambigui che sono sulla scala grigia qui abbiamo invece un sacco di schieramenti differenti destinati per forza di cose a confluire in un grande conflitto finale che probabilmente immagino lascerà dietro di sé tante tante vittime dicevamo i grandi pregi della puntata sono sicuramente il ritmo frenetico la colonna sonora molto studiata con dei brani veramente veramente particolari e che mai mi sarei aspettato di trovare in produzione di Marvel ma che si sposano al contesto e ai personaggi e si tratta di tracce anche di caratura internazionale c'è tanto citazionismo viene anche menzionato The Winter Soldier e una determinata lista di un taccuino di Cap che nel nostro adattamento italiano figurava tra le altre cose anche il nome di Vasco Rossi tant'è comunque poi c'è anche spazio a tanta azione a tantissime coreografie c'è un grandissimo combattimento in pieno sequenza veramente veramente bello girato senza stuntman e questa cosa l'apprezzo molto perché l'ultima volta che l'avevo vista in salsa Marvel era per l'appunto in una serie targata Netflix e mi sto riferendo nello specifico proprio a Marvel's Daredevil quindi sono molto contento di aver visto questo tipo di sequenza vengono dati inoltre tantissime informazioni e la storia letteralmente se paragonata agli eventi dei primi due episodi decolla ma il modo in cui decolla personalmente non l'ho apprezzato perché qua adesso iniziano i problemi la serie è talmente frenetica talmente frenetica che lo spettatore non ha neanche il tempo di metabolizzare tutte le informazioni che riceve e purtroppo in seconda battuta tantissime scelte che sono praticamente dei Deus Ex Machina perché permettono ai personaggi di passare dal punto A al punto B richiedono allo spettatore una grandissima sospensione di incredulità questi personaggi si comportano in modo realistico con delle soluzioni che non sono realistiche che non offrono spiegazioni e che quando le offrono sono raffazzonate e delle volte hanno anche dei buchi motivo per cui purtroppo il coinvolgimento almeno per quanto mi è parso rispetto alle prime due puntate mi è scemato un po' perché ho iniziato a notare un sacco di cose che mi hanno dato fastidio l'azione è un'azione bella ma non è un'azione Marvel il modo in cui i personaggi si muovono è generico as fuck sostanzialmente i personaggi combattono come se fossero dei carri armati sulla falsa riga di action man a cui Hollywood ci ha abituati in un generico action movie in un generico spy movie conspiracy movie quindi per quanto le sparatori gli inseguimenti le risse siano belle non sono in salsa Marvel non sono sulla falsa riga Marvel sembrano letteralmente i buoni contro i cattivi e se è vero che ci sono un sacco di buoni ci sono un sacco di cattivi all'interno di questa serie e ci sono anche dei personaggi che a seconda dello schieramento e della posizione dal punto di vista dello spettatore possono muoversi sulla linea grigia è altresì vero che io dagli standard a cui la Marvel ci ha abituati mi aspettavo di più mi aspettavo più spettacoli invece ripeto alcune sequenze sono state abbastanza prevedibili e altre invece senza né capo né coda e nella loro esecuzione per quanto ben riuscite anche se un paio di esplosioni sembravano finte come raramente capita targate Marvel Studios in una dico solo una parola container chi ha visto sa diciamo che mi sarei aspettato un di più l'ho trovata fatta bene ma nella normalità e le serie Marvel così come le serie Lucas per quanto riguarda anche The Mandalorian ci hanno abituato degli standard estetici visivi e concettuali davvero davvero elevati per la prima volta ho assistito a una buona scena d'azione che non sembrava una buona scena d'azione ma solo una buona scena d'azione per me questo rappresenta un grave difetto perché laddove tante persone mi dicevano con The Mandalorian ma non ti aspettare trame elaborate alla fin fine è una serie Marvel deve avere lo stesso target del cinema perfetto però se non mi aspetto una trame elaborata mi aspetta almeno una visione estetica a estetic assolutamente elaborata qua non c'è stata in questa puntata per la prima volta non c'era alcuna differenza tra una serie Marvel e un generico action movie ad alto budget stiamo sempre parlando e questo ci tengo a dirlo sto paragonando la serie a un film e non a un crime casuale che puoi beccare in televisione sulla falsa riga DCSI o NCIS sto paragonando la sparatoria e la sequenza d'azione che si è vista nella serie a una qualsiasi risa slash sparatoria che troveresti in un film ad alto budget quindi da un punto di vista tecnico il budget si vede ma l'impronta e la cifra stilistica a cui la Marvel ci ha abituato qua in questa puntata non traspare è veramente una sequenza ben fatta ma totalmente generica e quando la Marvel che ormai ha improntato uno stile invidiabile e riconoscibile di fatto perde quello stile per amalgamarsi alla massa secondo me sbaglia secondo me c'è qualcosa che non funziona e io sarei anche curioso di sapere non mi sono ancora documentato se siano cambiati gli autori di showrunner in corso d'opera o se magari si è cambiato il slash la regista da questo punto di vista perché il distacco tra le prime due puntate è evidente se la prima puntata aveva un'ottima sequenza d'apertura action e poi è stata molto lenta riflessiva e dialogata la seconda puntata a differenza di questa terza è attualmente quella più equilibrata perché è stata in grado di avere azione di avere commedia è stata in grado di avere dramma colpi di scena introspezione sviluppo dei personaggi in questo terzo episodio in cui Zemo è one man show e mi sta bene perché Daniel Brull è bello da vederlo sempre in scena è carismatico e recita bene lo ripeto per me Zemo sta all'MCU esattamente come Moriarty stava Sherlock serviva un personaggio di questa caratura e sono contento che l'abbiano introdotto perché Marvel ha un grosso problema con i villain in generale ci sono alcuni molto più riusciti altri riusciti a metà e altri che invece è meglio dimenticarsi quindi da quel punto di vista Zemo è un personaggio davvero versatile e poliedrico e incredibile ma che purtroppo porta con sé una valanga di problemi a livello di scrittura nel senso che come poi dirò nel momento stesso in cui entro nella zona spoiler i personaggi riescono a farcela e a cavarsela in alcune situazioni in una maniera fin troppo casuale i personaggi sembrano che io personalmente nonostante si siano trovati in difficoltà non ho mai respirato una volta il pericolo perché sin dall'inizio delle prime battute e ripeto una puntata velocissima viene subito spiegata la soluzione viene subito mostrata la soluzione all'impedimento la soluzione all'ostacolo la soluzione al problema ogni volta che i personaggi si trovano in difficoltà qualcuno o qualcosa arriva lì per loro la soluzione c'è ora io non mi aspetto palesemente che i personaggi si trovano in difficoltà al punto di morire si chiama la serie The Falcon e The Winter Soldier non mi aspetto che Falcon e The Winter Soldier possano perdere la vita dall'oggi al domani a metà stagione o a metà serie se sarà un unicum limitato però mi aspetto comunque di respirare un po' di tensione e un po' di pericolo e invece non l'ho respirata per tutto l'episodio anche quando tranne in una scena devo essere sincero una scena che poi dirò nella sezione spoiler ma anche lì la risoluzione di quella scena è per l'ennesima volta Deus Ex Machina a me spiace tanto spiace perché nelle prime due puntate ho visto questi personaggi in sincera difficoltà non in pericolo ma in sincera difficoltà sia nel combattimento dell'inseguimento sui camion non ho mai temuto per la loro morte eppure si sono trovati in seria difficoltà e questo è il tipo di sensazione che io spero di provare quando guardo questo genere di serie spy e action e crime io mi aspetto di trovare quello stesso hype e quella stessa emotività e quella stessa sensazione ma soprattutto costeggiata costernata e accompagnata dalla medesima scrittura attenta una scrittura che in questo episodio non è stata attenta mai è una scrittura superficiale e blanda e soprattutto è piena di buchi di trama il fatto che poi alcuni di voi mi abbiano trovato delle ipotetiche soluzioni purtroppo non giocano a favore del prodotto perché come dico sempre io un conto è quando lo sceneggiatore o il regista ti mettono in scena una soluzione senza spiegartela e tu ci puoi arrivare può arrivare a dedurla da solo e un conto è quando 3, 4, 5 persone nel pubblico trovano un tappabuchi a quel buco di trama differente perché se il regista ti dà una soluzione ma il pubblico legge 5 soluzioni differenti vuol dire che la soluzione che ti ha dato il regista non era implicita e non era sotto gli occhi di tutti o tutti saremmo arrivati alla stessa identica conclusione se il pubblico riesce a rendere plausibile con scenari con risposte con la loro visione d'insieme una scena che di fatto plausibile non è applauso al pubblico ma è un grande handicap da parte degli autori è un grande handicap da parte del regista quello che io devo chiedermi e che mi sono chiesto stamattina e che non sono ancora riuscito a cogliere è questo problema è dettato dal fatto che anche in questo caso gli autori arrivati a questo punto delle riprese si trovassero di fronte al problema covid-19 e di conseguenza esattamente come accaduto con Bandavision il combattimento col senior scratch il coniglio di Agatha che diventa un demone non c'è stato la comparsata di Benedict Cumberbatch come Doctor Strange non c'è stata eccetera eccetera e di conseguenza sono corsi e ripari oppure gli autori hanno deciso di cambiare rotta all'improvviso e da questo punto di vista voglio spiegarmi voglio voglio sperare che dal quarto episodio si ritorni agli standard addettati dal secondo perché altrimenti c'è un grave problema è un gravissimo problema perché molte persone stamattina durante la revisione mi hanno detto Rob ma magari questo problema che tu hai avvertito è dovuto al fatto che la sceneggiatura è stata impostata a quel modo chi se ne frega se determinate risposte non te le diamo chi se ne frega se è troppo brusca e veloce è il nostro tipo il nostro modo tipo scelto per raccontare questa storia vogliamo essere veloci e vogliamo compensare le informazioni che non ti diamo con una qualità estetica ed emotiva impattante io questa cosa posso anche capirla ma fino a un certo punto se tu questo metodo se tu questa regia questa scrittura la adotti sin dall'inizio capisco che quello è il tipo di racconto che vuoi darmi che questo è il modus operandi con cui raccontare la trama se tu questa storia la inizi a raccontare in questo modo nella terza puntata c'è un problema perché il ritmo la stesura la plausibilità la logica la scrittura la tensione le tempistiche che ti sei presa nelle prime due parti di fatto nella terza non ci sono ed è un problema perché se la terza puntata è molto più ritmata in termini di scrittura è inferiore alle prime due ma ci arrivo tra qualche minuto prima spoiler free voglio sapere come vi è piaciuta la puntata se vi è piaciuta l'azione la colonna sonora cosa ne avete pensato dei dialoghi vi è piaciuto Zemo ditemi ditemi io non sono infatti ripeto il problema per me non è la velocità il problema è che quella velocità era senza trama mancano un sacco di cose e poi nella parte spoiler ti dico che cosa manca sei puntate sono poche almeno dieci puntate dovevano essere sai perché ne hanno fatte sei cala perché loro la gestiscono come se fosse un film e di base una sceneggiatura come Captain America di Winter Soldier è durata un'ora e mezza due ed erano sufficienti per confezionare quella trama qua probabilmente ci saranno alcune scene che allungheranno un po' il brodo e ci può stare la cosa importante è che non facciano l'errore delle serie Marvel Netflix inizio parte centrale epilogo le serie Marvel Netflix nella parte centrale guardate anche le recensioni sull'ottento metos dei singoli episodi sull'internet movie database su Metacritic le parti centrali delle serie Marvel Netflix erano quelle con gli episodi con i punteggi più bassi perché palesemente erano storie congeniate scritti ideate per durare non oltre tot puntate e non 13 episodi motivo per cui spesso c'è un allungamento del brodo ma solo io non ho capito chi sono questi profughi che Flag Smasher stanno aiutando con medicina e cibo ci arriviamo tra un po' per me è una puntata inferiore per scrittura però superiore per azione musica e regia e per l'intrattenimento la prima puntata mi stava stufando non poco anche lì è una questione di percezione soggettiva ci mancherebbe Cleo io sono abituato a serie come ripeto perdonatemi Breaking Bad Better Call Saul Ozark Mad Men e ancora Rectify Elton Catch Fire The Affair quindi per me il ritmo non è mai stato un problema se so pesato dai bei dialoghi e cazzo Falcon e The Winter Soldier oggi nelle prime due puntate aveva dei dialoghi che erano delle mine tanto erano attuali politici cinici tanto si faceva leva sulla sindrome da stress post-traumatico la sindrome del sopravvissuto l'eredità la questione dell'inferiorità dovuta al colore della pelle ed è una cosa veramente allucinante io non mi aspettavo una cosa del genere al cinema non avrebbero mai avuto i cojones o leovayes come si dirà in spagnolo boh di poter raccontare e affrontare questo tipo di tematiche però capisco anche che una persona che è abituata a serie più ritmate come ad esempio il pubblico statunitense questa cosa effettivamente possa aver pesato infatti critica analoga le ho viste muoversi anche in America sono d'accordissimo un attimo che recupero il tuo commento scusami Litium ma reduce dalla delusione con VandaVision e nonostante non fossi in hyper per Falcon e The Winter Soldier stavo iniziando a prendermi adesso temo che mi deluderà spero di sbagliarmi Zemo mi sta davvero piacendo mi aspetto grandi cose da lui terribili ma grandi Zemo paradossalmente è il personaggio che secondo me in termini di dialogo e interazioni è scritto meglio ma la storia che ruota attorno a Zemo ha talmente tanti buchi nell'acqua che potremmo farci una cava e di conseguenza un bel fiumiciattolo dentro intanto vi chiedo scusa per i botti ma io gestico dall'italiano medio Cleo ci dice da amante di storiere come Stranger Things ho una percezione diversa ci sta ciao DeLessi secondo me le forzature di questo episodio sono accettabili non dico non bisogna criticare ma non sono cose così grosse per me sono enormi e poi ti spiego perché ho visto serie con bocchi di trama maggiori tra l'altro alcune cose sono intuibili poi è vero che alcune non lo sono ma secondo me si può accettare il fatto che l'episodio sia veloce è sicuramente vero ma una delle caratteristiche più o meno evidenti dei film della Marvel ma Zemo non combatteva mica così? ci arriviamo ci arriviamo sulla cosa allora se tu mi parli dei film della Marvel dove il minutaggio è quello di un'ora e mezza due in rari casi tre ok se tu mi parli di una serie che sostanzialmente durerà sulle sei ore non puoi avere questo ritmo se lo vuoi avere ok diciamo che lo puoi avere devi prenderti il tempo di spiegare delle cose ripeto se l'autore ti lancia implicito quello che non viene spiegato papale papale va benissimo ma nel momento in cui arrivano e stamattina erano in o tre o quattro quattro spiegazioni differenti su quella scena su quella cosa che non è stata spiegata vuol dire che l'autore non ha messo una cosa implicita senza palesarla vuol dire che non l'ha proprio messa perché Tizio ci legge un significato Caio ce ne legge un altro Sempronio ce ne legge un altro ancora significa che nessuna di quelle strade per quanto tutto è plausibile è in realtà quella vera altrimenti l'avrebbero palesata gli autori non possono permettersi il lusso di dimenticare determinate cose soprattutto in una serie che si professa di essere realistica politica e raziale nel momento in cui usi queste armi contemporanee come freccia al tuo arco devi prenderti la responsabilità di raccontarle bene o mi dici che ho un racconto fantascientifico che ho un racconto fantasy distopico senza parallelismi alla realtà o se invece vuoi armarti del pregiudizio della denuncia sociale e io l'apprezzo lo amo assumiti le tue responsabilità per farlo bene questo è il senso del mio discorso ora come ora però ci addentriamo nella parte spoiler quindi se ancora non avete visto l'episodio vi invito a recuperare questa recensione dopo se siete abbonati disponibile qua il VOD su Twitch viceversa domani lo recupererete tutti alle 12 sul canale youtube qualora lo desideriate e ci ritroviamo nella parte senza spoiler tra 3 2 1 spoiler allora che cosa non va in The Falcon e The Winter Soldier grazie Zexivon per l'aboramento grazie di cuore cosa ne penso dell'ultimissima scena beh volevo iniziare proprio dalla prima ma dato che hai fatto questa domanda sull'ultima parliamo dell'ultima non me l'aspettavo ma avremmo dovuto aspettarcelo nell'ultima scena abbiamo qualcuno che viene a trovarci dal Wakanda perché? perché vogliono la testa di Zemo ricordiamoci che il padre di Challa è stato ucciso proprio da Zemo ricordiamocelo quindi avrebbe senso che ora come ora che Seme Baki collaborino con lui qualcuno venga a reclamare la sua testa quello ha senso non me l'aspettavo perché non mi aspettavo un richiamo al Wakanda in Falcon and the Winter Soldier ma assolutamente senso ti ascolto subito Merlino ciao ciao roba mezzemo che si allea con i buoni mi ha fatto molto storcere il naso non tanto né l'idea in sé che poteva benissimo essere fattibile nelle circostanze in cui stavano quanto per come è avvenuta una tipica piena di cliché banale evasione e motivata male a mio modo di vedere un cattivo di quel calibro che passeggia a fianco dei due protagonisti facendo solo battutine sarcastiche e smorfie ha tolto molto del fascino e della profondità al personaggio che ne pensi allora io devo dirti innanzitutto grazie le nichilini devo dirti che le battute da parte di zemo secondo me non hanno peggiorato la scrittura del personaggio nel senso che anzi lo hanno reso più tridimensionale è un uomo che è stato fermo per tanti anni che ha visto e ha sentito saputo il mondo intorno a sé cambiare trasformarsi e di conseguenza ha anche senso che in tutti questi anni di isolamento si è riuscito bene o male a capire determinate cose come funzionino eccetera eccetera da quel punto di vista per quanto mi riguarda ha anche senso che sia avvenuto questo non va a togliere dramma al personaggio se invece parliamo dell'evasione la prima scena lì c'è un problema grande quanto una casa zemo ci viene presentato come uno stratega come una persona in grado di creare e pianificare atti terroristici di portata globale come una delle personalità più intelligenti brillanti e pericolose che siano mai parse sulla terra e l'unica cosa che gli mancava per evadere dalla prigione era un bigliettino l'ho trovato una scelta molto povera il modo in cui siamo arrivati alla visione e all'evasione è stato anche troppo semplice lo dice lo stesso Falcon la fai troppo semplice perché ce l'hanno liquidata in fretta e furia era un carcere di massima sicurezza perché in tutto questo tempo non avesse pianificato un'evasione non avesse pianificato di fare altro non lo so stava aspettando il momento propizio stava aspettando una scusa ideale non ho idea visto che comunque ha capito e ha realizzato che c'era ancora un lavoro incompiuto c'era un qualcosa da portare a termine è stato veramente messo in scena in maniera troppo facile semplice sbrigativa e che richiede una sospensione dell'incrudelità veramente veramente forte immediatamente dopo ci spostiamo in un luogo nuovo esteticamente meraviglioso veramente veramente bello io ho trovato una fotografia una luce delle tematiche molto cyberpunk da un punto di vista estetico le ho apprezzate davvero davvero tanto ma va anche si detto che l'evolversi della narrazione è tornata ad essere veloce feroce stereotipata ogni volta che i personaggi si trovano in difficoltà scatta il deus ex machina peraltro una persona loro semebaki rimangono sconvolti nel momento stesso in cui vedono tutte le risorse che ha Zemo Zemo è evaso è lì imprigionato da tanti anni nessuno ha pensato a congelare le sue risorse nessuno ha pensato a piazzare degli agenti in tutte le abitazioni che lo aveva preso in tutti i covi che ha nel giro del mondo che sono delle ville intestate a suo nome lui lo dice proprio all'interno della sceneggiatura nessuno ha pensato a sorvegliare tutti i posti in cui sarebbe potuto andare no Zemo ha ancora accesso a tutti i suoi soldi a tutte le sue risorse perché lo ricorda è un barone va bene ok se lo dite voi funziona tutto va bene e ancora ogni volta che loro si trovano in difficoltà dobbiamo andare in questo posto come facciamo non preoccupatevi io i soldi dobbiamo semplicemente falsificare le vostre identità dobbiamo andare in questo posto come ci arriviamo potremmo entrare nel radar di qualcuno non preoccupatevi ho un posto lì dobbiamo andare lì non preoccupatevi conosco qualcuno siamo in mezzo alla merda chi ci salva adesso fortunatamente e arriva da quel punto di vista il personaggio di chiedovenia Sharon ricordo bene la gente fatemi vedere che ho avuto oddio sto invecchiando tantissimo vediamo si Sharon ok uff perché ho confusa con Shannon perché stavo pensando a Lost chiedovenia personaggio orribile Shannon comunque Sharon ci sta che sia lì ci viene spiegato in maniera plausibile molti ad esempio hanno criticato il fatto che si fosse indurita troppo che fosse diventata una personalità fin troppo ruvida fin troppo cattiva votata al risentimento direi grazie al cazzo perché comunque lei ha sacrificato tutto per salvare gli Avengers e quando comunque gli Avengers sono tornati alla loro vita normale tutti si sono dimenticati di lei e lei si è arrangiata la meno peggio quindi ci sta che lei provi del risentimento questo io lo trovo molto contestualizzato e anzi devo dire che le scene che ho apprezzato di più in termini di combattimento sono proprio quelle di Sharon che ha fatto senza Stunt Woman in piano sequenza e ha dimostrato a discapito dei ruoli che l'hanno resa celebre la serie Teen Everwood l'altra serie Revenge dove lei comunque aveva un ruolo da protagonista e la vedono in tutt'altro tipo di personaggi mi è piaciuta veramente tanto come sostanzialmente abbiano mostrato che si sia allenata e quanto sia cazzuta perché ripeto fare una scena del genere in piano sequenza l'ultima volta che vedemmo una cosa del genere fu proprio in Marvel's Daredevil quindi chapeau perché è stata più cazzuta lei di quanto è stato Iron Fist in due stagioni ma vabbè il personaggio di Zemo io l'ho trovato molto equilibrato molto versatile lo ripeto secondo me l'analogia che ho fatto e la ripeto per la terza volta calza a pennello io lo vedo davvero davvero tanto come una sorta di moriarti mi piace il fatto che sia carismatico che sia fascinoso che sia brillante intelligente che sia pericoloso che sia sempre sulla scala grigia che è disposta ad usarti ma poi ti salva il culo che comunque non si fa problemi ad realizzare il suo scopo che è quello di uccidere tutte le persone che stanno continuando a creare dei super soldati mi è piaciuto che sia di nuovo ritornata la tematica razziale in scena per quanto riguarda Isaia che era stato introdotto nello scorso episodio il Captain America Nero chiamiamolo così quindi da quel punto di vista devo dire che forse la cosa che funziona di più è proprio Zeno il problema però sta nel fatto che ogni volta che i personaggi si muovono da non location all'altra tranne la scena della telefonata in cui e anche lì mi dico ma siete lì tutti insieme nessun altro sa che voi vi trovate lì è una missione segreta che cazzo tieni il cellulare acceso con la vibrazione e la suoneria ma ti pare possibile una cosa del genere è stato un boh delle volte mi dico ma Sam è davvero preparato come fa a essersi dimenticato una cosa del genere non si sono mai separati nessun altro sa che loro si trovano lì da chi poteva aspettare chiamate vabbè tranne quella scena in cui ho respirato davvero l'ansia e il pericolo quando gli è stato detto rispondimi va voce e gli ho detto oh finalmente c'è un qualcosa che aumenta la tensione è arrivato di nuovo il Deus Ex Machina perché da quel punto di vista Sharon come un cecchino si occupa di aiutarli io per tutta la puntata che ho trovato estremamente frenetica ogni volta che i personaggi si muovevano faticavo un pochino a capire come arrivassero a fare cosa e come fosse possibile che ogni posto che dovevano vedere perché di fatto è una serie che ci ha portato in Europa sostanzialmente e continuano ad andare a far casino da una parte all'altra e riescono a farlo nella maniera più facile senza alcun impedimento senza alcun vero e proprio ostacolo con una facilità disarmante e io sono sbigottito dal fatto che nessuno abbia messo qualcuno sulle tracce di Zemo che nessuno sostanzialmente abbia congelato le sue finanze tutte le sue possibilità che tutto questo sia possibile con una facilità disarmante letteralmente a me piace quando in un prodotto un personaggio va dal punto A al punto B e deve faticare deve lottare per capire come guadagnarsi il punto B ad esempio c'è una scena in cui i personaggi vanno in discoteca dura se no un minuto di screen time ma era indispensabile girarla non porta relativamente a niente è una cosa che mi ha dato molto molto da pensare ti ascolto subito grazie Luca Zemo da stratega avrà saputo nascondere i suoi averi Bacchigli dai il badge per uscire dalla prigione la casa di Zemo non è dove ci sono i cattivi credo che alla fine siano in soco via anche perché parla del monumento 15 sta che ha la casa lì poi ammetto che l'agente 13 gli salva il sedere un po' a caso ma quello ci sta perché la botta di fortuna è da classico film d'azione facilotto come la chiamata guarda la cosa del badge e del bigliettino ok ma per come è stata messa in scena troppo veloce troppo è stato lì per tutto questo tempo e ci volevo un attimo a farlo uscire è davvero intelligente è davvero così stratega e gli mancava solo quello ma vabbè riguardo al posto lui dice io ho un posto lì possiamo anche dire che non è casa sua però mi suona un po' strano che lo abbia posti dappertutto va bene poi sulla Socovia va bene un po' che sul resto quando si muovono lì sapeva già che contatta avere eccetera eccetera è tutto troppo semplice è tutto troppo didascalico è tutto troppo schematico il modo in cui i personaggi si muovono mi mi fatica a prendere se guardo come è stato scritto il primo episodio e guardo come è stato scritto il secondo in tutta la puntata mi viene spontaneo pensare due parole che culo ah c'è quel che culo fanno quel che fortuna letteralmente e poi ripeto mi fa piacere vedere un po' di plot mi fa piacere vedere come ci si muove da una parte all'altra ma il modo veloce con cui lo si è fatto non ti permette di assimilare tutte le informazioni non ti permette di dare anche tu il fatto che tu mi abbia detto quello penso io credo va benissimo le spiegazioni che mi hai dato tu sono plausibili ma nel momento stesso in cui sei tu a dovermi dare quelle spiegazioni perché la storia non le vince per me è un problema di scrittura come ad esempio quando parlavamo di WandaVision ma l'agente Franklin l'apicoltore che fino ha fatto ma io penso che l'abbia messo in mezzo ad altri che ormai sia uno degli altri cittadini tu lo pensi ma non c'è stato mostrato non te lo dice apertamente e ancora ma non erano andati lì per salvare un testimone ma io penso che ormai il testimone fosse solo una scusa magari tu lo pensi ma in realtà non è stato palesato e potresti anche aver ragione il problema è che quando un autore ti dà una sceneggiatura deve darti delle risposte deve renderti quelle sceneggiature credibili io ho apprezzato la velocità ho apprezzato il ritmo avrei preferito che i personaggi si prendessero più tempo per rimanere fermi in alcuni luoghi e che si prendessero più scene e più screen time e più dialoghi per potermi spiegare meglio delle cose che voi dovete assumere per spiegare a me non è giusto che lo spettatore debba assumere determinate cose debba fare due più due il 4 tu me lo devi mettere lì anche perché tu mi hai detto due più due poco fa Luca ha scritto un'altra cosa questa cosa che ha scritto va in controtendenza a quella che hai detto tu e sono tutte e due scuse plausibili legittime ma allo stesso modo diverse quindi chi ha ragione spoiler tutte e due nessuno perché il regista gli autori non ci hanno dato queste risposte e anche lì bella reazione Zemo è stato chiuso tutto il tempo in una cella 4x4 senza potersi allenare esce è già una macchina da guerra con le risse non è un super uomo non è un mutante non ha poteri anche lì io mi metto un attimo nei panni tanta gente mi dice ti soffermi troppo su ste cose ragazzi ma è una serie che si pone essere tra virgolette a parte il siero realistica è una serie che parla di spionaggio di azione di crime ma avessero in un quadrato una persona che ha l'opportunità di fare movimento che ha una palestra che l'abbiamo visto fare flessioni e quant'altro sta seduto a leggere a giocare a scacchi capite che io fatico un attimo a vedere che all'improvviso esce e riesce a fare tutto a stambare a dam è logico che se una serie è un'impronta realistica tolta la cosa dei super soldati e del siero la serie è un'impronta realistica politica e terroristica è normale che io mi soffermi laddove vedo delle persone che non hanno poteri avere tutte queste skill e quella è la cosa paradossalmente a differenza di tanti altri non ho trovato brusco il cambiamento caratteriale di Sharon perché tutti si sono dimenticati di lei per 5 anni lei non vede la sua famiglia non può ritornare a casa sua ci sta che si sia incazzata e si sia allenata e si sia costruita un'altra realtà altrove quello ha senso perché lei è libera anche se non di tornare a casa è libera di crearsi qualcosa e magari il risentimento la rabbia l'hanno tenuta in forze per fare tutto quello che fa perché ci viene spiegato perché si è trasferita lì e che cosa fa con Zemo mi risulta un attimino più difficile da credere ma proprio perché ripeto questa serie viene come eredità spirituale di Captain America di Winter Soldier dove in poco meno di due ore quei problemi lì non sussistono dove la scrittura non viene sacrificata dall'azione io capisco che magari arrivato al terzo episodio vuoi mettere più azione è legittimo anche perché il pubblico americano ha dimostrato di amare molto questo episodio paradossalmente stando ai voti è invece per quanto concerne la critica europea una delle puntate che è piaciuto un po' di meno proprio perché troppo frettolosa e non ha avuto il modo di raccontare e spiegare tutto come avrebbe dovuto ecco mettiamola così sì è stata Sharon del Esside assolutamente non ti possono far vedere tutto quello che fa Zemo un attimo solo un secondo solo in un attimo che continuano a scrivere mi perdo i documenti in carcere minuto per minuto assolutamente non me lo posso però me lo devi tra virgolette anche contestualizzare qualcosa ripeto è stato tutto troppo veloce ed è stato tutto troppo facile pensate un attimo Zemo aveva tutte queste risorse economiche in termini di contatti in termini di conoscenze in termini di malavita bastavano semplicemente un badge o un bigliettino per uscire e in tutti questi anni nessuno ha mosso il culo per lui intelligente stratega brillante ci sono voluti una visita di Baki e boom adesso è fuori è tutto troppo facile è tutto troppo veloce puoi non mostrarmi tutto ma non puoi neanche mostrarmi niente ci vuole una via di mezzo a me la puntata non è piaciuta credo che ci sia troppa carne sul fuoco sia nella puntata che nella serie ad ora non mi ha ancora preso troppo veloce basta pensare al primo incontro tra Falcon e Baki sì quel dialogo lì ahi non ci vediamo da tanto posso venire in missione con te sì tanto è solo governativa tu dovresti essere una sorta di libertà vigilata dovresti andare a fare dei controlli ma va bene partecipo pure in questa missione con me anche lì e vi ripeto non è che mi ci sono soffermato più di tanto perché ho detto una leggerezza ci può anche stare è il modo in cui le cose vengono messe in scena il modo in cui la storia va avanti che è forzato ed è un peccato perché ripeto le prime due puntate erano molto più equilibrate non spiene di spiegazioni ma molto più equilibrate qua quell'equilibrio mi viene a mancare e mi ha fatto divertire di meno anche quando c'è stata la sparatoria nella scena dei container così come quando c'è stata la rissa non mi sembrava un combattimento alla Marvel mi sembrava una rissa generica da film action per me posso dire poi quella scena è stata girata bene sì le coreografie dei combattimenti sono fighe sì le posso trovare in qualsiasi film action al cinema AAA sì non era un combattimento Marvel era letteralmente una sparatoria un combattimento a caso non ho visto non ho respirato l'emozione la regia Marvel il modo di combattere della Marvel la coreografia dei combattimenti della Marvel era un bel combattimento ma era generico as fuck e la Marvel ha un marchio ha uno stile in questo episodio non l'ho visto grazie Luca ultimo commento sì sì quello sono d'accordo è vero è troppo veloce il tutto e anche si perde il tempo dei vari viaggi il trailer alla Fast and Furious rispecchiava questa puntata non ce l'avevo pensato spero anche che le spiegazioni dei fan sono un errore di chi ha scritto spero che rimangano forzature e non buchi proprio come Wanda del brindisi con la mano al serpente quello ad esempio è uno di quegli stereotipi il cattivo che beve sempre roba schifosa è uno di quegli stereotipi che sostanzialmente ho accettato di buon cuore ci stava va bene va bene ci ho riso sopra ma anche lì perdonatemi è un'organizzazione criminale sono sempre informati sul mondo esterno davvero nessuno mi sta dicendo che senza occhialini nessuno ha riconosciuto nonostante il comple bastava un completo per non riconoscere più falcon davvero bastava questo ma fatto strano davvero nessuno ha riconosciuto un avenger lì dentro cioè fin quando non c'era la telefonata nessuno ha capito neanche il braccio destro del pezzo grosso nessuno ha capito che Sam Wilson che quello che adesso non mi ricordo neanche come l'avevano chiamato il personaggio ma che di fatto fosse Sam Wilson l'avenger e ancora quando vanno nei piani alti ok non sei più nelle zone malfamate ma davvero i signori della criminalità che dallo spaccio dalle micro organizzazioni criminali fino alle più grandi che si raggiunano lì dato che è una sorta di quartiere delle illegalità sin dai tempi nei pirati non hanno ramificazioni nei piani alti per riuscire a capire dove si trovano per riuscire a beccarle quando erano in discoteca visto che nessuno aveva delle maschere io ragazzi accetto tutto però se tu mi introduci un posto e mi introduci un sistema mi introduci le regole e poi le cambi e ti dimentichi che te ne freghi mi fai un po' girare le palle ora io spero che non tutti gli episodi da qui in avanti siano come il terzo perché inesorabilmente ve lo dico inizia a piacermi di meno perché questa puntata non è una puntata brutta ripeto quello che ho detto stamattina è scorrevole i 45 minuti mi sono volati non mi è pesato ma mentirei se dicessi che è la puntata che mi è piaciuta di più perché secondo me è la più debole delle tre però ci sono determinate cose come l'evasione di Zemo che mancano ancora alcuni dettagli alcuni di voi mi hanno fatto le domande nei commenti mi spiace non averle recuperate tutte perché sarebbe da scervellarci solo su quello è ovvio che in futuro non riprenderanno più l'argomento perché ormai deve accettare che Zemo è evaso fine basta non torneremo più sul piano dell'evasione al massimo avviseranno John Walker oh guarda in questa prigione qua sono venuti Sam Wilson e Bucky Barnes a parlare con Zemo dopo c'è stata una rivolta e il giorno dopo Zemo è scappato ti dice niente è logico che il nuovo Captain America dirà ho capito che cosa vogliono fare quindi è palese che la scena verrà ripresa in mano anche perché mi aspetto che a un certo punto questa cosa metterà in conflitto il nuovo Cap e Sam e Bucky è normale che sia così fermo restando che tutta questa cosa questa parte dell'iso non verrà più ripresa in mano le eventuali domande le forzature che noi abbiamo visto non verranno più trattate perché la storia è andata talmente avanti veloce che questo è un tassello che può ritenersi chiuso è un capitolo che può ritenersi chiuso non arriveranno spiegazioni la cosa importante è che dalla prossima puntata in poi arrivino mi sta benissimo l'azione ma rendimela chiara e contestualizzata e parere puramente personale mettici più Fatos mettici più Marvel il combattimento con i Cameron era un combattimento Marvel la sequenza del primo episodio di Falcon che insegui i terroristi quello è un combattimento Marvel quella di oggi letteralmente potevo vederli in arma letale potevo vedermela in grosso guai a Chinatown sapevo che era una cosa Marvel perché c'erano dentro Bucky e Sam viceversa era fine a se stessa la battaglia secondo te spiegheranno perché Zem ha deciso di mettersi la maschera? secondo me sì c'è un motivo specifico perché vedo come guarda la maschera vedo come gli sguardi il sorriso che fa quando la guarda è un totem per lui e arriveremo al punto di spiegare il perché di quel totem anche la scena dell'esplosione della macchina da parte di Flex Smasher che uccidono le persone mi è sembrata forzata come se volessero renderli per forze cattivi quando fino ad ora erano stati rappresentati come coloro che aiutano i più deboli quello l'hanno fatto nel momento stesso in cui la ragazza di cui mi sfugge il nome prima o poi imparerò i nomi dei personaggi la ragazza con i capelli ricci rossi dice vabbè tanto quelle persone non avrebbero mai cambiato idea quelle persone non le puoi ridimere lì ti fa capire ok stai empatizzando con lei che vuole salvare delle persone che stanno male che vuole salvare delle persone che hanno sofferto tanto però però ricordati che non puoi salvare qualcuno senza sacrificare qualcos'altro sostanzialmente è quello che ti vogliono far capire ti fanno empatizzare con lei e ti fanno dire questa persona è armata da scopi nobili ma allo stesso tempo ti dicono che è un estremista e che per raggiungere quegli scopi nobili è disposta a fare delle cose orribili quindi empatizzaci ma ricordati che non è lei l'eroina della storia credo che vogliono dirti questo peraltro adesso che siamo in zona spoiler vi dico anche la cosa che ho apprezzato di più la scena di apertura mi è piaciuta veramente veramente tanto questa scena di apertura con tanto di sponsor campagna di pubblicità progresso fa molto The Boys l'ho apprezzata davvero tanto mi ha sorpreso è praticamente la seconda volta consecutiva che mi sorprendono positivamente con una scena di apertura l'altra volta è stato il background inaspettato con John Walker che alla fine della prima puntata tutti abbiamo odiato tanto era brutto con sto mascellona la vecchietto di Up e adesso mi hanno sorpreso con questa intro che mi dà anche un contesto politico e sociale in cui i personaggi si muovono ottima perché non voglio passare per hater e quant'altro ottima la colonna sonora bella ma bella bella al cinema penso che solo i guardiani della galassia reggano il confronto in tv invece ha già blastato WandaVision sul fronte musicale proprio avanti anni luce mi sta piacendo davvero tanto ricercata buona anche la slow motion in alcune sequenze molto ben dosata impara Zack Snyder ti ascolto subito Luca allora madre pur io ve l'avevo detto oggi quando ho visto la chat esaltata io ve l'avevo detto ragazzi è un easter egg per ora non vedremo niente di più se per questa location la riprendono io sono solo contento però contestualizzatela per quello che è Power Broker che comunque è stato introdotto qua ed era il quinto punto di vista di referente di cui facevo riferimento prima non ha ancora un viso e secondo me se vogliono mantenere inalterata la tradizione di The Falcon e The Winter Soldier Power Broker è qualcuno che già conosciamo mi interesserebbe una cosa del genere la troverei affascinante come cosa sarebbe veramente omaggiare esattamente come il personaggio di Robert Redford in Captain America di Winter Soldier finiva inaspettatamente per avere un ruolo da villain quando palesemente era un insider inizialmente adesso mi piacerebbe davvero tanto che fosse qualcuno che non conosce qualcuno di cui ignoriamo totalmente il fatto possa essere un villain ma che in realtà è un personaggio con cui già abbiamo avuto a che fare mi piacerebbe quello poi bisogna vedere se effettivamente ci sarà questo colpo di scena come spero oppure no sono curioso e per carità sono curioso anche hype per la prossima puntata soprattutto dopo la scena finale di questa che è plausibile che ci sta ad esempio questo è un colpo di scena che arriva non come Deus Ex Machina è plausibile che sia successo perché hanno detto apertamente quello che Zemo ha fatto al precedente Black Panther ecco perché ha senso che questo personaggio arrivi dal Wakanda per avere la testa per chiamare la testa di Zemo adesso che è fuori dalla galera non me lo aspettavo è stato un colpo di scena che ho apprezzato perché sono riusciti a tenerlo nascosto chapeau secondo me è un'ottima puntata da quel punto di vista questa scena salva salva veramente tanto la scrittura perché io amo i colpi di scena che siano sì sensazionalisti ma allo stesso tempo plausibili e questo è un ottimo più che un'ottima puntata mi sono disposto male è un'ottima chiusura di puntata mi piace veramente tanto su tutto il resto c'è tanto da lavorare io sono a favore dell'azione a me piace l'azione ma vi prego scrivete bene anche i testi scrivete bene la sceneggiatura se c'è un cameo di Chadwick piango penso che una cosa del genere l'avrebbero spammata in ogni modo possibile e inimmaginabile e stando ai tempi di ripresa dello show non credo che possa essere possibile purtroppo però è un ottimo cliffhanger sono d'accordo con Klaus assolutamente l'ultima scena mi ha fatto gridare anche perché è stata esaltata per l'ennesima volta permettetemi da una splendida colonna sonora bellissimo totalmente in contrasto con la colonna sonora spy che di no ma falcon e winter soldier usano con degli strumenti molto più tribali con un bel canto l'ho trovata davvero davvero ben congeniata come regia come scrittura due dialoghi ma terribilmente messi lì a puntino terribilmente efficaci e quindi devo dire che è una puntata da cui mi aspettavo di più in tutta onestà non mi ha deluso però mi ha fatto storcere il naso in diverse battute in diversi momenti spero complice il fatto che ormai siamo a metà strada che le prossime tre puntate siano più bilanciate tra ritmo azione ma soprattutto scrittura mi auguro che non mettano troppa carne al fuoco per poi correre e non gestirla bene e poi vabbè ne parleremo comunque lunedì sera sul canale twitch victorlasd88 con il vicarob perché parleremo recenseremo la puntata come consuetudine e poi avremo modo di confrontarci anche nei prossimi talk in order to me e quant'altro ancora donna un soldo al tuo mequac oh papero errante oh papero errante oh 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 donna un soldo al tuo mequac che risponde a tutti beh o almeno ci prova ciao ciao